Brutto episodio di Cronaca, una rapina a Nocera Inferiore. Nel Mirino sarebbe finito un imprenditore che stava per raggiungere la banca per depositare dei soldi. Il fatto delinquenziale si è verificato in piazza Trieste e Trento. Dalle primissime indiscrezioni pare che il danno si aggirerebbe intorno ai 150.000 euro. Sul posto sono prontamente giunti i carabinieri e la polizia, che stanno svolgendo indagini e controlli serrati su tutto il territorio di Nocera Inferiore. Grazie a tutti.